In studio, Catiuscia Carpentieri. Buonasera dalla redazione di MTG in apertura il Covid. Facciamo il punto della situazione con il bollettino giornariello che arriva dalla regione siciliana. Callano i contagi nelle ultime ore in Sicilia. Oggi si contano 662 nuovi positivi. Ieri erano 729 a fronte di oltre 32.000 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 2%, ieri era del 2,6%. La Sicilia si trova al settimo posto in Italia. Al primo c'è il Veneto con 2.873 casi, al secondo la Lombardia con 2.620, al terzo il Lazio con 1.810 casi, al quarto l'Emilia-Romagna con 1.464 casi, al quinto la Campania con 1.271, al sesto il Piemonte con 1.204. Attualmente i positivi sono 12.560 con un decremento di 77 casi. I guariti sono 748, mentre le vittime sono 4 e portano il totale dei decessi a 7.218. In ospedale restano 351 persone ricoverate, tanto quanto ieri. In terapia intensiva invece sono 44, c'è un ricovero in più rispetto a ieri. Il contagio nelle singole province vede Palermo con 81 casi, Catania 186, Messina 105, Siragusa 74, Ragusa 18, Trapani 85, Caltanissetta 47, Agrigento 65 ed Enna 14. Intanto all'avvia da ieri la dose booster per tutta la popolazione over 18. In Sicilia si è registrato un boom di terze dosi nella settimana 24-30 novembre e un incremento anche delle prime dosi. Da ieri terza dose di vaccino anti-covid agli over 18. È stata firmata infatti dalla direttore generale prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza la circolare che estende la platea destinataria della dose booster a tutti i maggiorenni. E in tanti hanno deciso di cogliere questa opportunità. Nei punti vaccinali ritornano le file a dimostrazione che la gente crede in questo vaccino e nella protezione che esso può dare. I ragazzi che abbiamo incontrato ci hanno detto di essere più sereni avendo ricevuto la dose booster. Io ho 30 anni. Io aspettavo proprio questa perché sono mai passati oltre sette mesi da quando ho fatto la seconda quindi sono pronto per ricevere la terza anche perché io viaggio e quindi voglio essere quanto più protetto possibile. Sto facendo la terza dose, ho 41 anni e la consiglio assolutamente. Io ho 30 anni, sono un medico, ho appena fatto la terza dose. Nella settimana 24-30 novembre si è registrato un boom delle terze dosi con un più 81,76% rispetto alla settimana precedente, un incremento nelle prime dosi con un più 30,81% rispetto alla settimana prima. Così come ci conferma anche le responsabili del punto vaccinale del policlinico. Gli utenti stanno rispondendo bene all'appello e alla necessità di garantire protezione a se stessi e agli altri e accedono alle strutture di vaccinazione sia con prenotazione sia in open così come richiesto dall'assessorato. Ci affianchiamo all'ASP e a tutte le altre strutture di somministrazione per garantire la massima e più rapida copertura agli aventi di ditto. In Sicilia aumentano anche le prime dosi? Sì, fortunatamente viene compresa l'utilità e l'importanza del vaccino anche magari da coloro che finora avevano avuto paura. Noi continuiamo ad avere rispetto all'attività erogata un 10-15% di prime dose ogni giorno, quindi parliamo di 40-50 somministrazioni in prima dose, che potrà sembrare un numero piccolo ma invece è un dato importante perché ogni prima dose ci aiuta a proteggerci tutti e ringraziamo ogni singola nuova somministrazione che decide di accedere al vaccino. E insieme ai giovani si continua a fare la terza dose anche per le altre fasce dell'età, come questa novantenne che invita tutti a vaccinarsi. Signora, quanti anni ha? 90, compiuti. È voluta venire qui per fare la terza dose di vaccino? Sì, sì, sì. Io ho insistito con i miei figli che mi volevano levare il pensiero di fare questo terzo vaccino. Cosa dice ai giovani che hanno più paura? Ma non c'è paura, anzi sono di essere più sicuri, più volontari per farlo perché si deve fare questo terzo vaccino. Intanto l'AIFA ha dato l'ok per il vaccino ai bambini fascia 5-11 anni. Abbiamo chiesto al segretario regionale Federazione Italiana Medici Pediatri, il dottore Giuseppe Vella, le modalità rassicurando su eventuali controindicazioni. È arrivato l'ok dall'AIFA per la vaccinazione anti-covid per i bambini d'età compresa dai 5 agli 11 anni. Le somministrazioni partiranno a fine dicembre. Saranno effettuate con doppia somministrazione a distanza di tre settimane l'una dall'altra, ma con dosaggio ridotto a un terzo rispetto a quello degli adulti. Sull'argomento interviene il segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Giuseppe Vella, che spiega come ogni regione si stia organizzando. Ogni regione può partire in maniera diversa, in date diverse, dipende dal tipo di organizzazione che si effettuerà nelle varie regioni. Le controindicazioni sono pochissime come il vaccino per l'età adulta. Noi possiamo avere delle controindicazioni assolute che quel bambino non può essere somministrato in vaccino. Ci possono essere delle malattie dove la controindicazione è temporanea, cioè in quel momento perché fa delle terapie immunosoppressive o terapie con cortisone ad alti dosaggi, naturalmente per un periodo di impianto si può poi somministrare tranquillamente questo vaccino. Vella interviene sull'eventuale, raro caso, di insorgenza di miocardite. L'insorgenza di miocardite, dai dati che si sono avuti, è molto più elevata nell'infezione della malattia da Covid che da una miocardite da vaccino. Si è visto che le miocardite da vaccino, se eventualmente qualche raro caso può succedere, va tranquillamente a risoluzione con una terapia, un po' di cortisone, va a risoluzione senza lasciare nessun re-dequato. Dopo il protocollo firmato con la Regione il 16 novembre si attende adesso la ratifica affinché i pediatri abbiano la possibilità di vaccinare nei propri ambulatori o fornire la disponibilità negli hub. Sono sentito martedì con l'assessorato, si sta cercando al più presto di fare questa ratifica e quindi di inviarlo alla gazzetta regionale per pubblicare appunto questo accordo e il rendolo esecutivo. Non sappiamo quando finirà la pandemia, dice Vella. Per gli adulti potrebbe rendersi necessaria la vaccinazione ogni anno. Ogni anno ci possono essere delle modifiche, delle varianti e quindi dovremmo anche noi abituarci. Di fatto noi oggi per l'influenza ogni anno ci vacciniamo con un vaccino diverso dagli anni precedenti e quindi se c'è la necessità di vaccinare ogni anno non è che abbiamo altra terapia, altra alternativa. Se c'è la necessità di vaccinare ogni sei mesi, ogni anno di vaccinarsi non vedo quale sia il pericolo. E intanto da oggi entra in vigore la nuova ordinanza della regione siciliana che impone tra le altre cose l'uso della mascherina anche nei luoghi all'aperto e il controllo con tampone in porto e aeroporti per chi giunge da 15 paesi esteri. Entra in vigore oggi la nuova ordinanza della regione siciliana valida fino al prossimo 31 dicembre che prevede tra le altre cose anche l'uso della mascherina all'aperto. Da oggi chi ha più di 12 anni anche per strada dunque deve indossare la mascherina. Tanti provvedimenti inseriti in questa ordinanza così come si può vedere sul sito della regione siciliana. Da oggi la mascherina anche all'aperto, non più al polso, quando si cammina per strada? C'è una nuova ordinanza regionale, lo sapeva? Veramente no. Adesso lo sto sapendo. Pensa sia giusto mettere le mascherine anche all'aperto? In un certo senso sì, anche un discorso di polizia perché essendo vicini i fiati, i cosi possono comportare delle inconvenienze diciamo così. Perché ci sono assemblamenti sì, se no per me è inutile. Quindi non la metterà nonostante l'ordinanza? Sì, se c'è l'ordinanza la metto, però sono contrario, solamente nei posti affollati, ma camminando da soli penso che lontana, a distanza non c'è bisogno. Bene, bene, è giusto così. Lei cosa ne pensa? Sono pienamente d'accordo, infatti ve la sto mettendo. Da oggi in vigore la nuova ordinanza della regione, mascherine anche all'aperto, cosa ne pensa? Ne metto la mascherina allora. Esatto, deve metterla anche all'aperto. È giusta. Pensa possa aiutare? Una cosa necessaria per tutti allora. Sì, la mascherina dovrebbe proteggere. Lei cosa ne pensa? Penso che protegge, è anche fondamentale la distanza. La nuova ordinanza prevede inoltre l'obbligo di tampone in porti e aeroporti siciliani per i passeggeri provenienti da 15 stati esteri, ossia dalla Repubblica di Sudafrica, Botswana, Hong Kong, Stato di Israele, Repubblica Araba di Egitto e Repubblica di Turchia. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene nei 14 giorni precedenti alla partenza, soggiornato transitato da Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi. I passeggeri in arrivo dai paesi per i quali non è previsto il tampone obbligatorio potranno comunque richiedere di essere sottoposti al test direttamente presso lo scalo e a titolo gratuito. I soggetti giunti in Sicilia nei dieci giorni precedenti all'entrata in vigore dell'ordinanza devono contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale per essere sottoposti a tampone molecolare. E poi ancora nuove disposizioni per i migranti. I migranti infatti che raggiungono il territorio siciliano al termine del periodo di quarantena saranno sottoposti all'obbligo del tampone molecolare. Questa specifica parte dell'ordinanza viene apprezzata dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che dice che l'esecuzione del tampone molecolare più sicuro invece del tampone antigenico non può non essere condivisibile tant'è che a Pozzallo il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp ha sempre eseguito un rapido antigenico allo sbarco e un molecolare a fine quarantena. Lasciamo la pagina dedicata al Covid, parliamo di cronaca, ampia pagina dedicata alla cronaca, all'operazione dei carabinieri della compagnia di Modica, che hanno eseguito 17 misure cautelari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti anche a minori. Gruppo criminale operava nei comuni di Modica, Ispica e Pozzallo. Cocaina, marijuana, eroina, crack e hashish vendute tramite contatti tra i giovani e messe sul mercato e spacciate grazie a un gruppo criminale che operava nei comuni di Modica, Ispica e Pozzallo. E quanto emerso nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Modica, che attraverso un'indagine iniziata nel maggio del 2020, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ha scoperto e smantellato una rete di spaccio consolidata in territorio ebleo, ma che apprivigionava nel mercato di Palermo e Catania ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, per poi rivenderli al dettaglio nei tre comuni blei. Documentate quasi 3.000 cessioni di stupefacente attraverso contatti tra i giovani, che si davano appuntamento nei centri cittadini, coinvolte anche donne. 17. Le misure cautelarie eseguite. 7. In custodia cautelare in carcere. 7. Arresti domiciliari. 3. Obblighi di dimora. 4 persone deferite stato di libertà. 8 degli indagati, inoltre, sono stati denunciati per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, con un danno erariale stimato in 80.000 euro. 5. Sconcertante, come ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Ragusa, Fabio Danna, presente alla conferenza stampa, che quasi tutte le persone coinvolte siano soggetti già noti e colpiti da provvedimenti specifici. Inoltre, tra questi, uno di loro risulta coinvolto nell'operazione Bronx del 2018 e condannato in primo grado, oltre alla figura di un certo Zupippo, da qui il nome dell'operazione Beduncle, per l'utilizzo di condotte minacciose al fine di recuperare il credito degli acquirenti. Le indagini si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali, osservazioni, controlli e pedinamenti, accertamenti documentali. Il Briz Lampo è stato eseguito nelle prime ore di stamattina, con arresti e perquisizioni, effettuate anche con l'ausilio di altri reparti territorialmente competenti. Utilizzavano un linguaggio criptico, alludendo a marmite, alimenti, quindi evitavano di utilizzare chiaramente dei nomi o comunque dei riferimenti specifici agli stupefacenti. Un'operazione importante che rappresenta un duro colpo inferto alla criminalità. Si stima che il traffico illecito di droga, infatti, sia una delle maggiori fonti di guadagno. Inoltre, l'elevato costo della droga fa pensare ad assuntori con un certo tenore di vita, per poterselo permettere. Parliamo di cessioni di fino a 100 euro al grammo di cocaina, più cessioni al giorno degli spacciatori che riuscivano a rifornire vari canali e che riuscivano anche ad approvvigionare materiale e sostanza stupefacente di primissima qualità. L'indagine è proprio partita dal centro storico della Contea, dove sono stati identificati alcuni soggetti che iniziavano a spacciare appunto dello stupefacente. Si è trattato di una vera e propria spedizione punitiva a quella avvenuta lo scorso 23 novembre in via Brescia a Vittoria, quando furono sparati colpi di arma da fuoco contro un'abitazione. La Polizia di Stato ha concluso le indagini fermando cinque persone. Sono cinque le persone fermate, tutti responsabili di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi in riferimento ai fatti di cronaca dello scorso 23 novembre, quando furono esplosi colpi di arma da fuoco contro un'abitazione di via Brescia a Vittoria. La Polizia di Stato ha proceduto al fermo d'indiziato di delitto disposto dalla Procura di Ragusa. Dalle indagini è emerso che alla base del gesto ci sarebbe un diverbio per futili motivi a causa di una mancata precedenza. Gli occupanti dell'autovettura, che stava per investire un pedone, si allontanavano dal luogo della lite e dopo essere scesi dal mezzo hanno inseguito armati di macete con l'intento di aggredire la persona scampata dall'investimento e che nel frattempo fuggiva verso la sua abitazione. Grazie all'intervento del padre, che sentiva le urla del figlio, il ragazzo è riuscito ad entrare velocemente in casa e a sfuggire ai suoi inseguitori. Sembrava tutto finito, ma invece trascorsi circa dieci minuti da un'autovettura che si fermava proprio davanti all'abitazione della vittima, venivano esplosi tre colpi di arma da fuoco ad altezza uomo i cui proiettili colpivano il vetro e l'imposta dell'abitazione, arrivando sin dentro l'appartamento dove vi erano anche altri componenti della famiglia. La ricostruzione dei fatti veniva confermata da una serie di risultanze investigative che hanno attenzionato tutte le fasi, poste in essere dagli indagati, autore di una vera e propria spedizione punitiva culminata negli spari. Le modalità efferate e le circostanze dell'evento hanno destato notevole allarme sociale nella città di Vittoria e in tutta la provincia eblea, soprattutto per la spiccata pericolosità sociale dei soggetti che hanno manifestato delle condotte violente anche dinnanzi ad un banale diverbio di circolazione stradale. I soggetti fermati dopo le formalità di rito sono stati condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rigenerare le periferie attraverso un incremento di servizi e attività, così il sindaco di noto Corrado Figura interviene dopo quanto accaduto in città. Il primo cittadino parla della sinergia e del costante contatto con le forze dell'ordine che stanno eseguendo le indagini. Lo ricordiamo, un ragazzo di 17 anni è stato ferito alla testa con un colpo di arma da fuoco. Sentiamo lo straccio del sindaco Figura intervistato da Veronica Puglisi nel corso dell'edizione di MTG delle 16.30. Ci sono indagini importanti e c'è una presenza forte e massiccia sul territorio delle autorità competenti. Il nostro obiettivo è quello di rivalutare e rigenerare queste periferie attraverso anche un'integrazione sociale. Sappiamo anche che in alcune periferie la presenza diminuisce o aumenta in base ai periodi dell'anno. Come in questo caso nella zona di Piazza Platone il periodo clou è tra fine ottobre e inizi novembre fino ad arrivare a febbraio. Perché si concentrano in determinati periodi? Perché praticamente all'interno della comunità dopo febbraio vanno lungo il territorio nazionale senza una fissa dimora e ritornano nel territorio netino e quindi particolarmente nella periferia, nella zona di Piazza Platone a fine ottobre, inizi di novembre e inclusi anche durante il periodo natalizio fino poi ad arrivare a fine gennaio e inizi febbraio. Chiederete una maggiore presenza delle forze dell'ordine, Sindaco, in queste zone? Siamo in stretti rapporti sempre in contatto con la prefettura e le forze dell'ordine sul territorio e devo essere sincero in questo mese e mezzo da quando io mi sono insediato questo rapporto ribadisco che è molto stretto e continuano ad esserci sempre contatti e riunioni costante con la prefettura e con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Salvate mio figlio e l'appello a Corato che lancia un boss detenuto in regime di 41 bis al presidente del Tribunale dei Minori di Catania, Roberto Di Bella. Il boss spera che il figlio possa intraprendere una vita diversa, lontano dal quartiere a rischio dove è cresciuto. Non è la prima volta che salviamo qualcuno, ha detto il presidente ai nostri microfoni. Dottore, la prego, tenga lontano mio figlio da quel maledetto quartiere. L'appello a Corato che fa un non capo mafia al 41 bis al presidente del Tribunale dei Minori, Roberto Di Bella. Il giudice, ancora una volta, è l'angelo custode di questi ragazzi che spesso hanno il destino segnato, fatto di malavita e delinquenza. Lui riesce a dare speranza a questi giovani grazie al progetto Liberi di Scegliere che toglie i ragazzi da ambienti difficili per regalare loro un futuro. Come alla 14enne, figlio del boss. Il primo genito del boss, infatti, si era già candidato a prendere il posto del padre nell'organizzazione. Adesso, per fortuna, è lontano da Catania. Il padre, così come ci racconta il presidente Di Bella, dopo il colloquio gli ha mandato una lettera. rispetto a tutte le indicazioni che ti danno in comunità e soprattutto non mi considerare un mito, ma un fallimento. Questo sta accadendo adesso a Catania, ma è già accaduto a Reggio Calabria. Io intrattengo rapporti epistolari con molti detenuti, anche al 41 bis. Trovo anche un'umanità dolente. Non tutti sono criminali riducibili. Il confine tra buoni e cattivi non è un confine inderebile. E soprattutto l'amore per i figli può rappresentare la chiave di volta per dei percorsi importanti di legalità. Questo è quello che sta accadendo. Io noto che c'è molta sofferenza. La carcerazione, chiaramente, impone delle riflessioni. Molti di questi signori chiedono aiuto per i loro figli. Ci incoraggiano a proseguire nella strada che abbiamo intrapreso e si rammaricano, per non aver avuto loro stessi, 15-20 anni fa, le stesse opportunità. Ecco, questo è quello che sta accadendo. Bisogna dialogare, cooptarli, coinvolgerli nei processi educativi dei figli. Il Tribunale per i milioni di Catania è presente. Le porte della mia stanza, del Tribunale, sono aperte a tutti i ragazzi, a tutte le madri, anche a tutti i detenuti che vogliono seguire dei percorsi di legalità, che vogliono emanciparsi della cultura criminale per loro stessi e per i loro figli. Cosa l'ha colpita particolarmente di questa lettera? Diciamo che sono tante le lettere che ho ricevuto, quindi non voglio parlarne una in particolare. E allora quello che molti detenuti dicono ai loro figli è questo. Non mi considerare un mito, ma io che sono l'inchiuso tra queste quattro mura, la mia vita è stata un fallimento. Quindi non mi devi considerare come un modello da imitare. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria. E bentornati in studio. Parliamo della fornace penna, ennesimo crollo. Mentre la regione e gli eredi litigano sull'esproprio, l'importante bene archeologico cade a pezzi. L'appello è della deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo. Il tempo trascorre inesorabile e si porta via con sé un altro pezzo della fornace penna. Dal monumento di archeologia industriale è avvenuto il crollo di tre arcate. Sul bene architettonico è in corso un procedimento di esproprio da parte della regione. Dopo che il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana ha approvato il 14 settembre a fini della dichiarazione della pubblica utilità il piano di esproprio, respingendo le osservazioni presentate dai proprietari nei mesi estivi, la soprintendenza ai beni ambientali e culturali di Raguse ha lavoro per l'esecuzione del provvedimento. Nel frattempo arriva l'intervento della deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo. Cosa si aspetta? A fare qualcosa di concreto, scrive in una nota. La regione si attivi perché la fornace penna venga subito messa in sicurezza senza perdere ulteriore tempo. Non possiamo rassegnarci, afferma Campo, a vedere sparire crollo dopo crollo un pezzo importante della nostra storia. Sin dall'inizio di legislatura chiediamo la messa in sicurezza del bene, ma si è continuato a fare orecchie da mercante, chiudendo colpevolmente gli occhi davanti ai ripetuti crolli, verificatesi praticamente ogni anno. Speriamo, continua la deputata, che il disastro di oggi serva quantomeno a far prendere coscienza a chi di dovere della improcrastinabilità di rapidi interventi di messa in sicurezza, coinvolgendo anche la protezione civile. Il nostro timore è che ora sia in pericolo il pezzo più significativo della struttura, la torre della Ciminiera. Sul tema, sui tempi della procedura di esproprio, sull'eventualità di mettere in sicurezza un bene che appartiene ai privati, abbiamo provato a contattare l'assessore regionale ai beni culturali, all'identità siciliana Alberto Samonà, per avere delle risposte, ma c'è stato comunicato che non è in sede. Attendiamo comunque di avere riscontri nei prossimi giorni. Adesso parliamo delle iniziative del Natale a Ragusa. Si chiama Natale Barocco, il ricco calendario organizzato dal Comune di Ragusa è presentato questa mattina alla stampa. Oltre 100 le iniziative. Un cartellone ricco di eventi destinati a grandi e piccini che inizieranno questo fine settimana per tutto il periodo natalizio nell'ambito del cartellone Natale Barocco. con oltre 100 gli eventi dislocati tra il centro di Ragusa, Ragusa Ibla, Marina di Ragusa, la frazione di San Giacomo e il castello di Donna Fugata. Visto il periodo di pandemia, gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, come ha sottolineato il sindaco Cassì. Eventi che appunto serviranno per provare a contribuire, a dare un po' di serenità, un po' di tranquillità, a dare un po' di ottimismo anche alla comunità ragusana che è fortemente provata, come tutte, da questo periodo di pandemia. C'è un virus che ancora non è stato sconfitto, per cui Natale sì, divertiamoci sì, stiamo sereni sì, certamente le condizioni sono migliorate rispetto a quelle dell'anno scorso, ma ancora con molta prudenza. Mostre, concerti, spettacoli teatrali, un presepe interattivo e un bosco incantato presso i giardini di Ibla affascineranno cittadini, ma anche quei turisti che decideranno e potranno trascorrere a Ragusa il periodo natalizio. Non mancheranno le attività per i più piccoli, come la casa di Babbo Natale, il regalo sospeso, molte infatti le attività che all'intrattenimento affiancano valori come solidarietà e integrazione tra le culture. Quest'anno la casa di Babbo Natale sarà a Ragusa Ibla e sarà praticamente in Piazza Pola, proprio utilizziamo il comune che si apre e diventa la casa di Babbo Natale, dove verranno portati questi doni per due importanti manifestazioni che saranno fatte, una il 24 mattina, dove inviteremo tutte le associazioni del mondo del sociale, non solo a Ragusa, ma il giorno 6 in collaborazione con Ragusa il Centro per la Befana, 6 gennaio, con Ragusa il Centro stiamo organizzando invece questa giornata dedicata alla Befana con omaggi dati ai bambini, con questa raccolta fondi, ma sarà anche una festa dell'integrazione sociale, perché coinvolgeremo anche tutte le famiglie etteriche del Centro Storico, perché è anche bello un'iniziativa di dividere e diventare con loro. Ma poi parliamo di grandi eventi, eventi si riprende con discusi in Via Roma, per cui tutti i sabbi e domeniche, tutti i giorni speciali, ci saranno questi importanti eventi all'interno praticamente dei negozi, ormai possono dire pochi sfitti in Via Roma, sono solamente due. Ibla con una cosa molto nuova, il Bosco Incantato. Andrete alla villa con questa illuminazione particolare e troverete la rena gigante, l'orso gigante, portate i bambini, una bellissima slitta gigante dove fare i selfie ed entra anche una cosa diversa con i bambini. E poi la novità importante, pensate, il presepe vivente ma diverso. Un presepe vivente fatto con 32 attori, dove si entra e ci saranno due attori che ti portano in otto steppi diversi per raccontare la storia del viaggio di Giuseppe Maria fino ad arrivare alla Natività. Due omaggi importanti, una dedicata a Rino Ghetano e suonerà per noi il figlio di Gianni Morandi, Marco Morandi, e poi un omaggio dedicato a Franco Battiato il primo gennaio a Maria in Ragusa, per poi anche a Maria in Ragusa Animazione, ma anche San Giacomo, la Festival di Se, vi dico, in calendario sono più di 120. Si va da una mostra realizzata al Centro Commerciale Culturale con la presenza del maestro Giuseppe Leone, stavolta sul nudo, infatti si chiama Nudità e Giardino di Afrodita, mentre l'aspetto natalizio sarà più approfondito nella parte di Ragusa Ibla con una mostra sui presepi, immancabile, non poteva mancare a Palazzo Cosentini, ma soprattutto la sistemazione e l'allestimento delle statuine della collezione Criscione che abbiamo acquistato come comune, sono 11 statuine, che andranno a potenziare il presepe del Signore Trovato proprio nella chiesa del Santissimo Trovato, quindi questa sarà la grande novità. Per i bambini ci saranno dei laboratori a cura del collettivo Ocra, sempre a Palazzo Cosentini, più anche una caccia al tesoro culturale per Ragusa Ibla, realizzata in associazione al Centro Commerciale Naturale di Ragusa. E non ci sono ulteriori aggiornamenti, chiude qui questa edizione di MTG. Grazie come sempre per averci scelto, una buona serata e arrivederci a domani. Grazie a tutti.